La città di Siderno da oggi può vantare una centenaria in più e la signora Teresa Abaggetta, residente nella popolosa contrada Pantaleo di Siderno, che ha festeggiato con tutti i suoi parenti e conoscenti l'importante traguardo. Un secolo portato splendidamente, donna forte e lucida, il suo viso e la sua vivacità non tradiscono la sua età. La festa si è svolta nella sua casa e ha avuto come momento toccante la consegna da parte del sindaco Alessandro Figliomeni e del consigliere regionale Cosimo Cherubino della targa ricordo che a nome dell'amministrazione comunale dell'intera popolazione di Siderno le è stata consegnata. La saggezza, l'esperienza e i consigli della lucida nonnina Teresa serviranno a tutti noi per un buon viatico e per riuscire a raggiungere cento anni. Auguri di vero cuore. La comunità che dice grazie a questa famiglia allargata che ha permesso a questa nonna di vivere nella sua casa fino a cento anni. Un traguardo importante che costituisce una festa non solo per lei e per la sua famiglia ma per l'intera comunità e quindi io sono qui come sindaco della città di Siderno ad esprimere questa condivisione di festa che la comunità condivide. Nonna Teresa Baggetta è la prima di cinque figlie perché erano quattro ragazze, quattro donne e un fratello. Ha vissuto un secolo di storia, il Novecento, il cosiddetto secolo breve. Ha vissuto due guerre mondiali e nonostante questo ha dimostrato di avere una tempra molto forte. Ha avuto due matrimoni, il primo marito purtroppo è morto nella seconda guerra mondiale, poi si è risposata nel 49 ma non ha avuto nessun figlio. In compenso però ha tantissimi nipoti, tantissimi pronipoti che le vogliono tantissimo bene proprio per le doti umane, per le qualità umane e morali che essa ha sempre dimostrato. Auguri a nonna Teresa e l'auspicio è che tantissimi cittadini nostri di Siderno e di tutta la locale possano raggiungere un traguardo così importante.